Sindaco Ferrara, l'ultimo pestaggio in città, questo brutto episodio purtroppo ha portato un po' di malumori, lei però ha detto che non bloccherà la Movida, però ci saranno degli incontri con le associazioni di categoria per capire come andare avanti. Certamente un episodio riprovevole, certamente non l'unico, non dico nella nostra città, ma in tutte le città, dove la vita notturna è ripresa secondo i protocolli e i decreti nazionali e regionali. Io sono stato sempre per la prevenzione e non per la repressione, su questo penso di essere perfettamente in linea con le direttive sia del prefetto che delle forze dell'ordine e a Chieti abbiamo fatto sempre di tutto, sia durante il lockdown che alla ripresa delle attività, tutto quello che era possibile per evitare episodi come questi. Non solo ne sono a testimonianza, ma ovviamente ho i report dei tavoli prefettizi, purtroppo non è possibile stare al minuto, al secondo in tutti i posti, è umanamente impossibile, ma anche se questo episodio ha avuto una rilevanza particolarmente grave, noi, almeno io e la mia amministrazione, non cediamo di un passo né sulla sicurezza dei nostri concittadini né nella diminuzione della libertà, perché la libertà è di tutti, è delle famiglie anche con bambini piccoli, delle persone per bene e non a causa di pochi sconsiderati dobbiamo diminuire la libertà di tutti.